La ricerca dei cippi è nata per la passione del territorio. Giravo in bicicletta in laguna, il primo cibo che ho visto è stato a Leggiare. In 1999 ho fatto una foto a questo cibo e poi mi sono incuriosito e ho cercato sul web la storia di questi oggetti e mi sono imbattuto nel libro dell'Istituto Veneto, quindi il libro di Armani, Caniato e Gianola, dove c'era la storia dei cippi e la mappa con le loro posizioni previste e quelle trovate nel 1991. Il viaggio è iniziato il 20 giugno del 2020, seguendo le linee di contaminazione lagunare in caia che è in bicicletta. Le persone che mi seguivano nel gruppo Facebook mi hanno dato una mano per cercare i cippi, mi stimolavano nella ricerca o mi davano informazioni su dove trovarli e in questo modo siamo riusciti a individuarli tutti. Durante la ricerca sono stato anche contattato dall'Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani e lì si è vista la possibilità di mettere a sistema questa ricerca e far sì che potesse diventare uno strumento di valorizzazione del territorio. Quello che mi ha appassionato di questa ricerca è stato lo scoprire la storia dietro a questi oggetti, dietro questi custodi della laguna e mi sentivo parte di una storia, una storia più grande di me. Grazie a tutti.